ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ci troviamo a maggio del 2024 molti operatori virtuali hanno lanciato il 5g e vediamo un attimo di esaminare quale operatore virtuale per rete almeno per quanto riguarda la mia opinione è il migliore su quindi team vodafone e wind 3 prima cosa prima di cominciare vi invito se vi piacciono i contenuti del mio canale a iscrivervi è il miglior modo per supportarmi mettete i pollicioni in su nei video che vi piacciono che è il miglior modo insieme all'iscrizione per supportare uno youtuber vi ricordo che sono presente su instagram dove do consulenza a tutti vi intrattengo con le storie e vi do aggiornamenti per quanto riguarda gli argomenti trattati dal mio canale c'è anche un modo altro modo gratuito per sostenere il mio lavoro che è quello di utilizzare il referral link che vi riporta da amazon che trovate giù in descrizione cliccando da lì farete gli acquisti normalmente come avete sempre fatto ma supportare del canale senza spendere un solo centesimo in più c'è anche la possibilità di fare una singola donazione col tasto grazie sotto ogni video è la possibilità di fare tre tagli di abbonamento al canale il più piccolo è pari almeno del costo di un caffè al mese allora vediamo di capire un po qual è a maggio del 2024 il miglior operatore virtuale sulle varie reti presenti allora cominciamo con la rete iliad non ha virtuali quindi non ne parliamo assolutamente la rete team nella rete team abbiamo solo ed esclusivamente adesso un operatore virtuale che ha il 5g ed è tiscali allora per fare tiscali in 5g adesso in questo momento vi è la possibilità online di poter richiedere la sim e l'attivazione anche dell'offerta però è obbligo di ricarica ogni mese con carta di credito oppure con conto corrente bancario l'unica soluzione per poterla fare ricaricabile semplice quindi senza carta di credito e eventuale conto corrente bancario e di potervi recare in un negozio tiscali quindi affiliato tiscali e poter fare da lì stessa una sim lì è possibile attivare anche il 5g poi altre reti al momento che hanno il 5g altri o meglio operatori virtuali che hanno il 5g su rete team non ce n'è quindi è obbligo dire che il miglior operatore virtuale è tiscali perché è l'unico che offre il 5g mentre sulla rete vodafone abbiamo diverse opzioni gli operatori virtuali al momento che hanno il 5g sulla rete vodafone sono o mobile che l'operatore virtuale che appartiene a vodafone di proprietà di vodafone e poi uno mobile che è un operatore virtuale storico da tantissimo tempo che ha il 5g però vi sono delle differenze importanti da sottolineare a livello tariffario li devo dirvi la verità come la penso io è una questione molto soggettiva quindi andate tranquillamente nel sito di uno mobile e quelli di o mobile eventualmente guardate quale tariffa vi può essere più utile entrambi gli operatori hanno un'opzione per attivare 5g se avete una tariffa in 4g o attiverete una tariffa in 4g con lo mobile basta attivare il turbo l'opzione turbo e si avrà comunque diritto anche con un tariffa in 4g ad avere il 5g stessa cosa per quanto riguarda uno mobile però vi sono delle differenze secondo me molto importanti nel senso che uno mobile non è una tariffa dormiente nel senso che se scegliete una vostra un pacchetto di tariffa di giga minuti illimitati sms illimitati o quello che sia comunque se non ricaricate tutti i mesi vi scade la tariffa e poi dovete riattivarla quindi ripagare i costi di attivazione con lo mobile quando è stato lanciato il 5g dipende da quale operatore provenite quindi se attivate una nuova offerta se provenite da dagli operatori fisici tranne illiad quindi team vodafone wind 3 dovete avete l'obbligo di auto ricarica quindi anche lì c'è adesso l'obbligo di auto ricarica però se provenite da altri operatori virtuali o da illiad in quel caso invece non c'è l'obbligo di auto ricarica e a differenza di uno mobile in questi casi la sim può essere dormiente nel senso che se non ricaricate anche per diversi mesi non perdete l'opzione quindi la tariffa che avete stipulato quindi già questo secondo me al momento è un punto a favore di o mobile un'altra cosa è il servizio clienti quindi l'assistenza clienti io conosco molto bene quella di o mobile perché sono da tanti anni che utilizzo queste sim non solo per esperimenti ma anche per come numero personale l'ho avuto diverse volte ho girato anche tanti altri operatori sia fisici che virtuali con il numero principale e alla fine adesso sono tornato da quando hanno il 5g con o mobile poi ho avuto tantissime altre sim ne ho tante altre anche per la mia famiglia e comunque mi sono sempre trovato bene con il servizio clienti mentre quello di uno mobile purtroppo devo dirvi che come assistenza clienti è pressoché pessimo se avete un problema una richiesta potreste avere grandi difficoltà a riuscire ad avere una consulenza di un certo livello con un operatore o anche addirittura parlare con un operatore però c'è una maggiore possibilità di scelta sulle tariffe specialmente poi con l'opzione del 5g potete attivarne anche una col 4g poi ci sono tantissimi pacchetti con dati maggiori anche alcune volte di o mobile diciamo che c'è una maggiore scelta però la sim non può rimanere non ricaricata se non dovete riattivare di nuovo una nuova una nuova opzione mentre con mobile solo se provenite dai fisici o e da veri mobile come operatore virtuale quindi per questo motivo vi consiglio io personalmente o mobile riguardo poi altri operatori virtuali per esempio optima mobile ancora non ha lanciato il 5g pur avendo lo stesso aggregatore di uno mobile che è fortel ancora non se ne parla quindi al momento non diciamo non è che non ve lo consiglio poi se voi volete utilizzare il 4g soltanto non vi importa nulla e 5g valutate la super offerta che continua a essere presente nel loro sito a bassissimo prezzo ed è comunque le prestazioni sono veramente ottime e il servizio clienti è migliore di quello di uno mobile quindi mi fermo qui sulla rete vodafone perché tutto il resto diciamo io lo lo scarterei compresa post mobile o post mobile come si suol dire perché è un operatore che mette moltissimi cup in alcune antenne è una bassa priorità di accesso in rete vodafone spesso facendo degli speed test che sono accettabili se guardate un video su youtube in alta risoluzione vi cappano quindi vi mettono una risoluzione molto più bassa perché il perché probabilmente gli accordi di scambio di dati tra rete vodafone post mobile non non prevede ciò che prevedono gli altri operatori dove il cap non viene messo comunque tecnicamente è questa la situazione poi il motivo non lo conosco andiamo invece alla rete wind 3 alla rete 23 l'unico operatore virtuale che al momento ha il 5g non è veri mobile che di loro proprietà ma è spuso quindi spuso un operatore virtuale diciamo che non è poi conosciuto da tantissimi diciamo chi segue il mio canale lo conosce molto bene al servizio 5g che ha un'ottima priorità in di navigazione sul sugli antenne di wind 3 però devo dirvi che la rete wind 3 io rimango sempre perplesso però in questo caso non non esprimerò più di tanto delle mie opinioni quindi comunque se scegliete spuso su rete wind 3 vi raccomando prima controllate come va non solo la copertura nella vostra zona ma le prestazioni dell'operatore perché in base a come sono le prestazioni della rete wind 3 nella vostra zona ne risentirà molto la prestazione in velocità e in tutto il resto di spuso comunque sul rete wind 3 è l'unico operatore virtuale che al momento ha il 5g fast web spesso quando parlo di questa rete mi viene nominato come operatore virtuale da quando ha vinto una parte dell'asta del 5g non è più un operatore virtuale come sapete chi mi segue anche acquistato vodafone che diventerà di sua proprietà praticamente dal prossimo anno dal primo trimestre del prossimo anno tramite swiss com che è il proprietario di fast web quindi poi le cose cambieranno totalmente lascerà nella rete wind 3 e ovviamente andrà nella sua rete proprietaria che sarà che è quella oggi chiamata vodafone ma questo è un discorso che non riguarda il periodo di maggio del 2024 quindi parliamo di adesso comunque non è considerato un operatore virtuale ha comunque fast web delle ottime tariffe quindi valutate se da voi va bene la rete wind 3 prima di eventualmente scegliere spuso che ha il 5g ovviamente fast web ha il 5g essendo operatore fisico in 5g e con gli accordi con wind 3 di condivisione del bts poi che cos'altro dirvi al momento notizie per quanto riguarda che la mobile su che è l'operatore virtuale di team e di di peri mobile su wind 3 che di proprietà di wind 3 per il 5g siamo totalmente fermi su wind 3 non entra per nessuna notizia ho fatto un video invece recentissimo che riguarda che è una mobile il possibile la possibile attivazione del 5g e le modalità di attivazione probabili che ci saranno in futuro andatelo a vedere perché ritengo che sia molto interessante per chi è interessato alla rete team e all'operatore di sua proprietà virtuale che è che è la mobile allora spero di essere stato più esaustivo possibile vi ricordo che la vostra opinione sotto ai video è graditissima e rispondo sempre a tutti fatemi sapere come la pensate su instagram vi do consulezza possiamo dialogare ancora meglio quindi iscrivetevi se non vi siete iscritti trovate il modo di raggiungermi sempre giù in descrizione sotto questo video e sotto tutti i video troverete il modo di raggiungermi anche su instagram io vi ringrazio per l'attenzione al prossimo video un abbraccio e un saluto da giuseppe grazie a tutti Grazie per la visione!